Mi fa dire la mia felicità nell'aver potuto aiutare l'Associazione Medici Pianza Milano Onlus e Medi Cuore nella realizzazione di questa ventunesima edizione. Medi Cuore, ventunesima edizione che io ho conosciuto sin dalla prima, perché era proprio il 1997 quando ho deciso di dedicarmi facendo un passo avanti in più, facendo qualcosa in più per la mia città e sono entrato in Consiglio Comunale per la prima volta proprio nel 1997 con l'amico Paolo da una parte e l'amico Andrea dall'altra. Quindi ho seguito la crescita di questa importantissima manifestazione che è diventato negli anni un vero e proprio appuntamento da non perdere e quindi l'ho conosciuta ancora meglio tra il 2007 e il 2009 quando ho avuto l'onore di fare il vice sindaco e l'assessore allo sport nella città di Monza e quindi i numeri che abbiamo sentito poc'anzi dall'amico Luca sono numeri talmente straordinari che si commentano da soli, che permettono a bambini dell'Africa di poter bere, a bambini ricoverati nel nostro ospedale di poter respirare. Insomma pensate a quanto questa manifestazione ha fatto per le persone che avevano tanto bisogno del nostro cuore e del nostro aiuto, quindi è per me veramente un piacere stavolta nel ruolo nuovo di sindaco aver collaborato e appoggiato condizionatamente questa ventunesima edizione.